Ciao, siamo a pochissime ore dal voto. Quello che abbiamo fatto è stato un rally su tutta la provincia tra l'Irpinia e il Sannio e in tutta Italia. Abbiamo diffuso le nostre idee, i nostri venti punti del programma. Questo è il momento nel quale si tirano un po' le somme e presto andremo ad esprimere quel bellissimo voto con una X fantastica sul simbolo del Movimento 5 Stelle e finalmente lo faremo con il sorriso. Ma abbiamo ancora un po' di tempo e quindi se avevi pensato di fare quella telefonata all'amico, se avevi pensato di parlare con quel tuo vicino indeciso oppure che si è stancato della politica, provaci oggi, provaci in queste ore. Fallo per una chance, una chance per un cambiamento che può durare per i prossimi dieci anni, perché altrimenti il rischio è di poterci trovare in una situazione di stallo pericolosa per il Paese. Io sono il momento con noi abbiamo dato il massimo e lo hai fatto anche tu. Ora andiamo a prenderci il Paese, andiamo a governarlo e andiamo finalmente a cambiarlo per il bene dei nostri figli. Forza!